Salve a tutti, torna in pista lo scenario di soft landing. Sappiamo che i mercati sono dei meccanismi di sconto sul futuro e vanno a scontare questo futuro in base allo scenario che ritengono via via più probabile. Quindi è un gioco di probabilità e in questo momento i mercati sono quanto mai data depending e quindi ogni volta che arriva un dato gli scenari possono cambiare in modo importante e quindi in questo momento la sfida è tra high for longer cioè tassi alti per lungo tempo oppure soft landing. In questo caso il soft landing prevede che la Federal Reserve, parliamo degli Stati Uniti ma poi a ruota anche della Banca Centrale Europea che segue da vicino e influenzata dalla politica degli Stati Uniti, andrà a tagliare i tassi, avrà più spazio per tagliare i tassi ma non un taglio violento perché a quel punto saremo in ambito di un terzo scenario in questo momento ritenuto fortunatamente dal mercato poco probabile l'hard landing, cioè la vera dura recessione, quella in cui gli utili delle aziende poi crollano del 15-20% e quindi inevitabilmente questo si fa sentire sul mercato finanziario. Perché parliamo di soft landing nuovamente in pista? Perché gli ultimi dati sul non farm payrolls pubblicati negli Stati Uniti hanno evidenziato appunto una interessante contrazione dei posti, delle nuove offerte di posti di lavoro. Andiamo a vedere appunto direttamente sul sito della Federal Reserve di San Luis la voce non farm payrolls, non farm perché vengono esclusi i lavori del settore agricolo che sono stagionali, più volatili, un po' come quando si considera il dato sull'inflazione core dove appunto si va ad escludere le componenti più volatili alimentari e energetici. Vedete che il numero degli impiegati aggiornato all'aprile del 2024, quindi al mese scorso, ha superato 158 milioni di unità. Ma se andiamo a vedere il confronto nel mese su mese c'è stato un aumento di 175 mila unità che è inferiore a quanto previsto dal mercato che si aspettava oltre 200 mila. Restringiamo il time frame, vedete aprile 158 mila 286, che sono milioni in realtà ma andiamo a semplificare, e marzo 188 mila 111. La differenza tra 188 286 e 188 111 è appunto 175, 175 mila nuovi posti di lavoro creati, quindi l'economia sta comunque crescendo, sta creando nuovi posti di lavoro ma meno rispetto al previsto. Vi faccio vedere questo grafico del totale anche perché poi comprendiamo che quando c'è una recessione, le fasce grigie, i posti di lavoro non vengono creati nuovi posti di lavoro ma il netto e il negativo, quindi non farm payrolls sostanzialmente non avranno il segno più mese su mese ma avranno il segno meno, cosa che adesso non sta accadendo per cui non siamo in un ambiente di recessione anche dal punto di vista del potenziale segnaletico di un dato importante, il market mover mensile che cade tutte le volte la prima settimana del mese negli Stati Uniti in non farm payrolls. Questo dato comunque è inferiore alle attese unitamente alla disoccupazione, il tasso di disoccupazione che è salito dal 38 al 39, ha riaccesso le speranze che la Fed possa tagliare magari più di una sola volta. Andiamo a vedere i futures, lo spazio di manovra, la differenza tra i tassi americani, Fed funds e l'importo dei futures cadenza a dicembre 2024 abbiamo 39 punti basi. È come se il mercato in questo momento stesse scontando sicuramente un taglio da 25 e chissà è a metà nello scontare anche un secondo taglio. Quindi le probabilità per un secondo taglio, per un finale d'anno, quello dell'alto delle elezioni con due tagli anziché uno rispetto a quanto scontato fino a prima della pubblicazione del dato dei non farm payrolls, è aumentata. Vedete che lo stesso ragionamento per quanto riguarda la BCE ci indica uno spazio di manovra di quasi 50 punti basi, quindi il mercato in questo momento, il lato futures, sta scontando praticamente due tagli per quanto riguarda l'eurozona e forse anche due per quanto riguarda gli Stati Uniti dopo il dato di ieri, ma ovviamente siamo in modalità data depending. Però questo dato, vedete che il future secco nell'ultima seduta è passato da 1,4, vediamo la rilevazione quotidiana di daily, andiamo su appunto dal 5,12 al 4,94, quindi praticamente nell'ultima seduta è come se il mercato si fosse mangiato, avesse acquistato un taglio in più, tale da portare appunto il tasso dei future più in basso di quasi 25 punti basi in una sola giornata. Per quanto riguarda poi il 2025 che è poi l'arma, tra virgolette, del mercato che ci serve, ci fa capire se il mercato sta scontando soft lending o hard lending e siamo in 4,17, quindi sì, i tassi dovrebbero essere tagliati anche nel 2025 secondo quello che immagina oggi il mercato, ma non poi così tanto, due o tre volte in modo tale da prodare a un 4,17, quindi il mercato non sta scontando l'hard lending perché se scontasse l'hard lending è chiaramente questo future più dilatato nel tempo dicembre 2025 sarebbe molto più in basso perché quando c'è una recessione la banca centrale va in panic cutting, cioè taglia molto violentemente i tassi, soprattutto se si è creata precedentemente un cuscinetto di manovra e qui se l'è creato perché i tassi non sono certo 0 a 1 ma siamo appunto al 5% negli Stati Uniti, quindi c'è lo spazio per tagliare, ma se i futures fine 2025 ci dicono che siamo al 2004,17 e praticamente siamo tra un high for longer e un soft lending, cioè la Fed taglierà poche volte nei prossimi 18 mesi sostanzialmente, quindi un soft lending o che se la gioca appunto con un high for longer, ovviamente il soft lending è lo scenario migliore perché diciamo si comincia già a tagliare e quindi l'economia, le probabilità che poi il soft lending si trasformi in hard lending sono più basse se restiamo rispetto a quelle di un high for longer, cioè più restiamo con questi tassi in alto più l'ipotesi che poi qualcosa si rompa e si vada direttamente dall'high for longer all'hard lending sono più probabili, quindi è interessante che si passi attraverso un soft lending, si tenti la strada del soft lending, inflazione ovviamente permettendo. L'altro dato di ieri che ha consentito al mercato di sbilanciarsi un po' di più nell'andare a mettere di nuovo sul piatto il soft lending è sicuramente il dato sui salari che sono cresciuti sulla base mensile, medi orari e meno del previsto e quindi sappiamo che i salari esercitano una pressione sull'inflazione importante. Altro dato importante che piace ai mercati in questo momento dal punto di vista dell'andare a riprezzare il soft lending è il petrolio, il petrolio ragazzi è in difficoltà, in difficoltà si fa per dire il prezzo del petrolio era quasi a 90 a inizio di aprile, adesso siamo a 77,93 quindi è sceso abbastanza e questo si potrà riflettere sulle prossime eventuali rilevazioni per quanto riguarda la misurazione dell'inflazione, quindi un dato disinflazionistico interessante che va a cozzare con gli ultimi tre mesi in cui l'inflazione è salita più del previsto e quindi negli Stati Uniti ha rilanciato l'ipotesi di una reflazione, poi questa reflazione sappiamo che si è accompagnata da una crescita economica, si chiama lo scenario dove va a chiamarsi appunto reflazione, se invece questa ripartenza dell'inflazione, questo rimbalzo dell'inflazione è accompagnato da un PIL che invece fa marcia indietro, rallenta nella sua crescita, a quel punto siamo nell'ambiente peggiore, ovvero di stagflazione. Quello su cui il mercato si è un po' impaurito la settimana scorsa e in l'ultima settimana invece una parte di questa paura proprio per i nuovi dati è andata via, non è del tutto cancellata, si vivrà data depending. Mi pareva però importante analizzare questo aspetto insieme a voi, soft landing, che ne pensate? I nuovi dati hanno rimescolato del tutto appunto lo scenario macro e andiamo a vedere come si sono comportati i singoli settori nell'ultima settimana, in particolare nell'ultima seduta, vedete tutti in verde ma molto bene i settori tecnologico che è il rate sensitive, quello sensibile ai darsi perché chiaramente le aziende tech hanno molto debito, sono molto sbilanciate sul futuro, la formula del discount cash flow opera in modo importante quindi se si riduce il tasso di interesse questa formula dà un miglioramento del risultato finale. Poi abbiamo molto bene anche il settore appunto del real estate che, se mi è scappato un po' di mano, ecco il real estate 079, alto settore rate sensitive, utilities 080 e anche appunto i consumi retail sono andati bene. Comunque il dato di XLK, del tecnologici, un po' inganna per certi versi perché c'è stata la trimestrale monstro da parte di Apple e vedete Apple, questo è molto importante come esercizio, chi non lo fa ai ai ai, diciamo andare a capire poi i singoli settori, gli 11 settori canonici in cui è divisa la borsa che poi sono dei mondi a sé, oltre agli indici generali per un investitore consapevole a mio avviso, ma questi indici settori a sua volta nella scomposizione dei titoli sono altri mondi a sé. XLK vedete che è fatto per quasi la metà del suo valore da Microsoft e Apple, se Apple mi fa un più 7% perché ha annunciato un piano di buyback da 110 miliardi di dollari, sì avete sentito bene, 110 miliardi di dollari non era mai accaduto nella storia che un'azienda annunciasse un piano per rastrellare le proprie azioni di tale portata finanziaria. 110 miliardi, questo è il vero motivo per cui Apple è salita, i conti non sono stati in realtà molto molto brillanti, quindi 21% e quindi è chiaro che se in una seduta uno di questi due fa il botto e l'XLK vola rispetto agli altri è fatto quasi più 3% trascinato dal grande buyback di Apple, ma di questo poi eventualmente ne parleremo e ne parlerò anche sul Sole24, a tal proposito trovate in descrizione i miei articoli dove approfondisco questi e tanti altri dettagli sull'educazione finanziaria, sul mondo dell'investimento consapevole. Andiamo adesso a chiudere per quanto riguarda gli utili perché anche gli utili sono molto importanti per capire se soft lending e hard lending. Allora si sta dipanando il quadro visto che hanno riportato praticamente quasi tutti, siamo all'80% delle 500 aziende che compongono l'S&P 500 appunto e abbiamo un quadro importante, vedete 5% il tasso di crescita rispetto al trimestre dello scorso, dell'anno precedente. Il mercato il 31 marzo si aspettava 3,4%, andiamo insieme ad aggiornare il file, ecco vedete qui ho un 3,5%, 3,4% insomma si aspettava per Q1 2004 dobbiamo mettere 5, adesso vedete che questo istogramma si è ampliato, Q1 2024 5%, quindi gli utili stanno andando meglio del previsto su Q1 2024. Andiamo a vedere ad aggiornare anche Q2, Q3 e Q4, sempre qui siamo in ambiente di previsione, andiamo a trovare più facilmente Q2, andiamo a spulciare il documento di Faxet che è molto molto prezioso, ecco 4Q2 2024 gli analisti stimano un 9,6%, Q3 8,4 e Q4 17,1, quindi andiamo a vedere da 9,4 9,6 quindi è migliorato anche per quanto riguarda di poco per quanto riguarda Q2, per quanto riguarda Q3 8,4 è un po' peggiorato da 8,6 8,4 e per quanto riguarda Q4 siamo a 17,1 quindi leggermente peggiorato rispetto al 17,7. Siamo comunque in un ambiente di crescita, le forward guidance però se così possiamo dire per ora non hanno distrutto, non hanno cancellato il proseguo di utili in crescita rispetto sempre alla trimestre, lo stesso trimestre dell'anno precedente e per quanto riguarda l'S&P 500 quindi lo scenario comunque è sempre compatibile con una crescita degli utili, il mercato sta scontando questo ed è per questo che siamo in un bull market ancora da ottobre 2022, non siamo in bear market, siamo ovviamente all'interno, quella di aprile, una correzione all'interno di un mercato rialzista supportato dagli utili e anche dalla liquidità, come abbiamo mostrato nel video precedente ci sono i presupposti per cui la liquidità, l'altra grande gamba del mercato, stia supportando il mercato, da questo punto di vista vorrei farvi vedere oltre alla canonica formula che ormai dovreste conoscere bene sulla liquidità all'ingrosso quindi bilancio della Federal Reserve, meno conto del tesore, meno conto del deposto della Federal Reserve, i cosiddetti e reverse repo, andiamo a vedere per quanto riguarda la liquidità anche la M2 che è un'altra forma molto utilizzata per andare a misurare la liquidità e poi vado a chiudere, altrimenti siamo un po' troppo lunghi ma devo prima trovarla tra i sterminati indicatori che andiamo a utilizzare, ecco la M2, qui abbiamo la M2 negli Stati Uniti, vedete che ha smesso di scendere e sta risalendo, lo notiamo leggermente meglio andando a vedere le colonne, vedete siamo in zona verde quindi stiamo risalendo negli ultimi 5 mesi, abbiamo 4 verdi dopo tanti tanti rossi, ma molto più interessante è la M2 globale, cioè quella che va a sommare anche le altre masse monetarie all'interno degli altri principali paesi mondiali, vedete che siamo a 91 mila miliardi di dollari e siamo anche qui tornando verso i massimi, siamo risaliti da novembre 2023, vedete il rialzo delle borse che è partito a fine ottobre e supportato da un rialzo anche della M2, se andiamo a vedere la correlazione di un indice delle borse globali con la M2 globale noteremo appunto una spettacolare correlazione, questo per dirvi quanto la liquidità poi è l'altro grande driver e la fa da padrona in questo caso e quindi una liquidità che su livelli importanti difficilmente è compatibile con uno scenario in cui le borse possano crollare e allo stesso tempo utili che sono visti comunque in crescita rispetto al trimestre precedente dell'anno precedente, nello stesso trimestre del precedente anno, queste canne blu non sono compatibili con un bear market a mio avviso, chiaramente il bear market dovrebbe arrivare, arriverà quando il mercato comincerà a fiutare che gli utili cominceranno a decrescere, quindi quando avremo effettivamente il mercato fiutirà che queste colonne poi diventeranno arancioni e non più blu, da questo punto di vista. È chiaro che però il soft landing è uno scenario più debole per certi vesti rispetto a un reflation trade, a un higher for longer supportato da una forte crescita dell'economia, ma è più diciamo è migliore tra virgolette perché rende meno probabile ma non lo esclude come dicevo prima lo scenario hard landing perché se i tassi vengono un po' abbassati l'ipotesi che si vada a rompere qualcosa nell'economia è un po' più blanda rispetto a che appunto si rompa con tassi molto molto alti, quali sono quelli attuali. Quindi in questa settimana vado a chiudere tanti concetti fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate nei commenti, un like mi raccomando superiamo stabilmente e agevolmente la vuota dei mille like a video per diffondere questi contenuti educazione finanziaria a più persone possibili, molto tale da estendere questi concetti alla portata di tutti. Ecco appunto quello che stavo dicendo è che è importante che tutto questo vada a quadrare nei prossimi mesi, nei prossimi dati perché i scenari sono questi qui soft landing, high for longer oppure hard landing e se la giocano a livello di probabilità. Questa settimana ha visto nei dati di aumentare l'ipotesi di soft landing che piace al risk on nel momento in cui appunto il mercato è ancora concentrato sul tema tassi e non sul tema crescita e quindi il tema tassi se i tassi scendono un po' di più vanno a ridare più fiato alle asset di rischio e quindi a indebolire anche il dollaro che sarà da attenzionare molto nelle prossime sedute. Fatemi sapere cosa ne pensate, alla prossima!